Mariano IV è stato il più importante tra tutti i giudici sardi. Inviato dal padre Ugone in Aragona, ebbe modo di crescere con tutte le qualità di un cavaliere, diventando amico di Pietro, futuro re d'Aragona. Quando tornò sull'isola, si rese conto di avere gli strumenti per liberare la Sardegna dagli Aragonesi e creare un regno sardo. Così intraprese una guerra contro l'Aragona, impegnandosi seriamente a cacciare via il re straniero. Vinse talmente tante battaglie che decise di scrivere una lettera al Papa impegnandosi a pagare lui stesso la somma dovuta e mai pagata a Don Pedro allo Stato Vaticano in cambio del suo consenso alla nascita di un regno sardo. Egli riuscì a vincere tutte le battaglie più importanti, tranne una, quella contro la peste, che lo costrinse a uscire di scena mentre già si delineava la sconfitta degli Aragonesi. Fu un peccato. Fu un peccato.